Ciao amiche, vi volevo fare un saluto dall'aeroporto, parto per Alicante, da Bologna, vado a vedere un po' la Spagna che cosa ci riserva, sapete che i miei viaggi non sono mai a fondo perduto ma anzi, voglio andare a vedere se c'è qualche azienda che produce qualche costina di buono ovviamente sempre biologico, voglio vedere di conoscere personcine molto interessanti e io spero insomma di inviarvi perlomeno un insieme di fotografie a video porto via anche il mio bambino perché senza ormai non posso, non potrei più andare sono cominciati i miei incontri di luna, chi mi segue anche su Passo per Passo e Incontri di Luna appunto lo sa abbiamo creato un bel gruppo di donne meravigliose che hanno voglia di lavorare ma soprattutto creare un bellissimo cerchio dove poterci confrontare, rapportare tra di noi quindi più che altro trovare il coraggio di guardarsi dentro, quindi aprire il cuore, collegare pancia, testa e cuore appunto e quindi balliamo, cantiamo, preghiamo insieme, ci aiutiamo l'una con l'altra, insomma un bellissimo lavoro quindi niente, vi farò sapere come andrà il viaggio, vi aggiornerò appena trovo un wifi e poi guardiamo un po', tanto tornerò la prossima settimana, non è che si staggiano troppo un bacio a tutti voi, ciao!